52 fotografi partecipanti con circa 800 immagini in gara. Sono questi i numeri della prima edizione del concorso fotografico nazionale del Carnevale di Fano. Un'occasione per poter rivivere non solo i momenti più emozionanti della Kermessa appena conclusa, ma anche per assistere all'intervento di Tano D'Amico. Nato in Sicilia nel 1942, romano d'adozione, collabora da tempo con il Manifesto e la Repubblica. Ha realizzato reportage su carceri, manicomi, rom e ha documentato le manifestazioni di piazza a partire dagli anni 60. Il fotoreporter internazionale, oltre ad essere il presidente di giuria, terrà una lezione sulla fotografia e sui suoi aspetti sociali, traendo spunto dalle immagini in concorso. Secondo lei che caratteristiche deve avere un'immagine per poter essere definita bella? Per me una bella immagine è quella che apre una dimensione che non avremmo mai avuto senza quell'immagine. Apre come una finestra nell'anima. Quindi non la dimenticheremo più, perché dimenticarla sarebbe come dimenticare una parte di noi stessi. Guardando queste foto, che cosa le è rimasto del Carnevale di Fano? Il Carnevale di Fano è uno dei più vecchi carnevali che esistano al mondo, secondo me. Il Carnevale è un periodo molto particolare per me, perché nei miei ricordi ho visto dei carnevali belli come quelli di Fano, che non sono allegri come quelli di Fano, ma che sottendono sempre un qualche cosa di triste, un qualche cosa di incompleto, che noi cerchiamo di completare. E poi anche mi vengono in mente paesi in cui il Carnevale non è vissuto bene. Il Carnevale è elargito come una droga che serve ad acquietare tutti. Io amo le persone inquiete come quelle che si trovano a Fano. Questa sera nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna verranno proclamati vincitori. Tra i premi un soggiorno per un weekend per due persone nelle strutture italiane, una cena gourmet sempre per due e un cofanetto di libri fotografici. Soddisfatti per il successo del concorso denominato Riti, Costumi e Immaginario sono gli organizzatori, l'ente carnevalesca, il Comune di Fano e l'Associazione Culturale Centrale Fotografia, presieduta da Marcello Sparaventi. Siamo molto felici. Devo dire che Tano D'Amico ci ha portato fortuna, nel senso che lui ha sempre fotografato la gente, le persone. Ci siamo resi conto che il Carnevale di Fano è il Carnevale della gente. Quindi avere un concorso fotografico che dà a tutti la possibilità di fotografare il numeroso pubblico che durante le sfilate è veramente una grande opportunità. Ogni anno ospiterete un artista diverso? Sì, il progetto con il Comune di Fano e l'ente carnevalesca è quello di avere ogni Fano un grande fotografo e naturalmente già Tano D'Amico ci ha consigliato alcuni nomi eccellenti che daranno quindi a questo concorso fotografico nazionale una valenza culturale. Grazie.